Per terra i discepoli vinti dal sonno giacevano nell'erba lungo la strada. Lì destò. L'ora del figlio dell'uomo è venuta. Egli si darà in mano ai peccatori. E aveva appena parlato che chissà da dove ecco una folla di servi, una turba di schiavi, luci, spade, e davanti a tutti Giuda col bacio del tradimento sulle labbra. Pietro tiene testa con la spada agli sgherri, ma sente, non col ferro si risolve la contesa. Rimetti a posto la tua spada, uomo. Pensi davvero che il padre mio di legioni alate qui a miriadi non m'avrebbe armato? E allora, incapaci di torcermi un capello, i nemici si sarebbero dispersi senza lasciar traccia. Ma il libro della vita è giunto alla pagina più preziosa. Ora deve compiersi ciò che fu scritto. Lascia dunque che si compia.